buonasera bentornati ad abruzzo village progettare su ceramica e porcellana design style moderno che si sposano con l'antica tradizione castellana un gruppo di giovani abruzzesi studia per diventare tecnico in progettazione di prodotti in ceramica e porcellana all'istituto d'arte di castelli un percorso di formazione professionale lungo un anno riconosciuto dalla regione abruzzo e curato dal gruppo concerto immerso nei colori e profumi della montagna teramana nelle aule luminose del liceo artistico statale grue un gruppo di giovani abruzzesi si sta formando per ottenere la qualifica rilasciata dalla regione abruzzo di tecnico in progettazione di prodotti in ceramica e porcellana si tratta di un corso di formazione professionale tecnico superiore gratuito curato dal gruppo consortium e che sta per terminare con soddisfazione dei ragazzi dopo 12 mesi di lezioni teoriche e pratiche lei insegna progettazione computerizzata ai prodotti in ceramica in porcellana quindi una innovazione dei prodotti molto tradizionali ma noi cerchiamo di combinare la tradizione con il nuovo il moderno praticamente è un la tecnica vera e propria e la la decalcomania per quanto riguarda la nostra materia insieme all'altro docente professor gammelli e dove la progettazione viene fatta prima manualmente con l'idea del progetto dopodiché viene riportata al computer dove dal computer vengono diciamo limati le imperfezioni di tutti i colori eccetera dopodiché viene fatta la separazione dei colori da questa separazione dei colori che viene o manualmente ma al giorno d'oggi è meglio farlo al computer e vengono incisi dei telai serigrafici telai molto semplici come si vengono vengono stampate le magliette le normali t-shirt eccetera dove vengo dove il colore viene trasferito su una particolare carta dove al termine del trasferimento dei colori viene dato un una specie di colore trasparente che ci permette di staccare il colore da questa carta particolare io ora non ho fatto altro che descrivervi quello che succedeva quando eravamo noi piccoli ossia che dalle gomme americane uscivano i tatuaggi che noi li bagnavamo li mettevamo sul braccio e li staccavamo il processo è identico ma questo colore poi mantiene sulla ceramica e sulla porcellana sono colori che vengono cotti da 850 gradi a 1100 gradi varia dalla tipologia del colore del supporto quindi sono colori non tossici sono colori per alimenti perché principalmente vengono forniti per ristoranti alberghi bar quindi come ci dicono i nostri clienti si fa prima a rompere il pezzo che non andare via il colore gli allievi di questo corso cosa imparano imparano ovviamente a fare questo ma loro poi che cosa faranno una volta acquisite queste tecniche questo processo sono liberi di scegliere la loro strada nel senso chi si vuole dedicare più in un settore chi più in un altro chi più manuale chi più progettuale chi computerizzato e perché naturalmente in questo corso non c'è soltanto la mia materia ce ne sono tante altre come la progettazione del prodotto in ceramica il colaggio la formatura la foggiatura alcuni tra i futuri tecnici in progettazione di prodotti in ceramica e porcellana hanno ideato dei manufatti artistici di notevole interesse partendo per esempio dalla tradizione castellana come il nodo di salomone hanno reinventato piatti moderni da esporre perché no ad Expo 2015 ma quanto è difficile applicare questa decalcomania? è semplice è semplice? sì è molto semplice i risultati? i risultati sono fedeli alle stampe quindi in realtà la difficoltà sta nell'ideare e disegnare ciò che deve essere stampato a te cosa piace riprodurre come disegno per esempio? io ho lavorato a un progetto insieme a un'altra ragazza che non è presente Sara Passamonti abbiamo lavorato a un progetto che si chiama Edonedo ed è un piatto ispirato al nodo di salomone che a sua volta prende come dire un simbolo presente nel soffitto maiolicato di San Donato e partendo da quel nodo l'abbiamo interpretato scomposto e reso tridimensionale e quindi è diventato un piatto formato da otto piatti a quel punto nel momento in cui dovevamo ideare la decalcomania abbiamo pensato di riprendere i topoi castellani della decorazione farli nostri quindi diciamo modernizzandoli e quindi abbiamo realizzato i nostri disegni sulla base castellana ma in una chiave 2015 ciò ci ha portato a realizzare i disegni che non so se avete visto su quel tavolo ho fatto i telai stampati come vedi il tuo futuro occupazionale? non lo so in Abruzzo penso di non averne all'estero probabilmente sì reinventando ciò che ho appreso ciò che di bello c'è e ciò che mi ha formata in Abruzzo perché in Abruzzo mi ha formata non solo la ceramica o l'arte ma senza dubbio la natura, l'aria che ho respirato non le persone che ho incontrato sono tantissime le patologie legate alle cattive abitudini alimentari tra i più giovani la regione Abruzzo infatti risulta essere al secondo posto in Italia per incidenza dell'obesità infantile subito dopo la campagna un problema che colpisce oltre il 40% dei bambini la provincia di Teramo risulta essere al primo posto in Abruzzo per questo sono scesi in campo enti importanti come l'aslo di Teramo l'università, la camera di commercio, il galla Pennino Teramano in un progetto di prevenzione e sensibilizzazione nelle scuole del territorio dal titolo La Salute Vien Mangiando l'Abruzzo è la quarta regione in Italia per obesità infantile un problema che interessa 10.000 famiglie ma sono tanti disturbi alimentari come anoressia e bulimia che colpiscono sempre più i giovanissimi parte da questi dati allarmanti il progetto La Salute Vien Mangiando che ha come capofila l'aslo di Teramo insieme alla regione Abruzzo l'università degli studi di Teramo, il galla Pennino Teramano, la camera di commercio di Teramo e lo Slow Food. Si partirà dunque dalle scuole del territorio per la sensibilizzazione e la consapevolezza dei ragazzi sul tema della salute a tavola che si lega a doppio filo con le tematiche ambientali e che ha importanti risvolti sul piano sociale, sanitario ed educativo La Salute Vien Mangiando grazie all'aslo di Teramo L'Abruzzo soffre al pari di molte altre regioni del centro-sud di un'elevata incidenza di obesità infantile frutto spesso anche di una mancata informazione su un corretto percorso alimentare ecco l'obesità poi è anche causa di successive patologie metaboliche noi dobbiamo evitare questo innanzitutto insegnando, educando, comunicando Questa iniziativa della ASLO fatta insieme ad altre istituzioni serve per spiegare le sane abitudini alimentari ai ragazzi iniziando dalle scuole Questo ingresso nelle scuole consentirà in qualche misura di avvicinare anche i soggetti più deboli che spesso sono i bambini che in quest'era delle brioscine sono per così dire un po' indifesi anche dalla fretta e dai tempi che caratterizzano la nostra attività oggi Come si mangia in Abruzzo, Assessore? Soprattutto voi come consigliate di mangiare? Sempre meglio e sempre più biologico io penso che su questo tema noi ci dobbiamo lavorare proprio oggi abbiamo pubblicato il nuovo bando sul biologico abruzzese oltre mille aziende coinvolte in questo settore da cinque anni non si pubblicava il bando sul biologico e dobbiamo fare un'unione stretta, una filiera corta con le iniziative come quella di oggi iniziando da una comunicazione ottima e salutare verso i bambini verso i problemi dell'obesità e poi fare in modo che le nostre menze anche quelle delle ASL, delle università, delle nostre scuole si leghino molto con il territorio attraverso l'utilizzo dei prodotti del nostro territorio e della nostra economia agricola regionale L'educazione alimentare è un settore che l'ASL di Teramo ha intenzione di incentivare partendo da questa sperimentazione che coinvolge diverse istituzioni Anche la Camera di Commercio schierata a favore di un'alimentazione sana a partire dai bambini? La Camera di Commercio tra i vari compiti ha anche la preoccupazione di seguire il mondo dell'agricoltura e di seguire anche il mondo dei consumatori noi rappresentiamo anche i consumatori io credo che la strada verso il futuro sia proprio quella di promuovere l'eccellenza dei prodotti e credo che sia anche una linea economica perché tra le cose che vanno bene in Abruzzo e forse anche in Italia è proprio il settore agroalimentare La Camera di Commercio è fortemente impegnata in questo settore i grandi successi che abbiamo avuto con i vini credo che la Camera abbia dato un contributo adeguato ovviamente anche la Camera deve fare molto di più tutti dobbiamo fare molto di più Alla mensa dell'Università di Teramo si mangia sanissimo? Si mangerà ancora più sanamente dopo che saremo riusciti a realizzare il progetto di trasformazione dal buono pasto al pasto buono lo presenteremo domenica 31 maggio all'Expo a Milano ed è un progetto che va esattamente nella stessa direzione di questo straordinario progetto organizzato dalla AS prodotti a chilometro zero preparazioni tradizionali e quindi educazione alimentare perché dalla buona alimentazione sicuramente deriva un'ottima salute Contenzioso da 200 mila euro tra il comune di Teramo e la municipalizzata Teramo Ambiente sul verde pubblico L'assessore comunale all'ambiente Rudy Di Stefano congela e contesta i pagamenti alla Team che non avrebbe tagliato l'erba in molte scuole e parchi gioco e così lui se la taglia da solo Una storia un po' tutta italiana municipalizzate che vengono pagate dai comuni fior di soldi per assolvere compiti e mansioni a servizio dei cittadini che incassano regolarmente ma non svolgono l'incarico richiesto In fondo chi controlla se l'erba nei parchi giochi in periferia e nelle frazioni è così alta che i bambini non possono nemmeno metterci i piedi? Qualche volta succede così l'assessorato all'ambiente del comune di Teramo dopo controlli accurati ha rilevato l'inadempienza della municipalizzata Teramo Ambiente che nel periodo tra gennaio e aprile 2015 pur richiedendo per il servizio 200.000 euro non ha assolto all'incarico di taglio erba nei luoghi dove avrebbe dovuto farlo L'assessore Rudy Di Stefano ha denunciato pubblicamente la cosa ha sospeso il pagamento alla Team e personalmente insieme ad alcuni giardinieri sta provvedendo a ripulire dalle erbacce e restituire i parchi giochi e le aree verdi ai bambini teramani Il comune di Teramo occorre ripari per soccorrere campi gioco e scuole ma che cosa è successo con la Team, Assessore? Sì, come era noto noi avevamo questo contratto con la Team per la manutenzione di tutte le aree verdi del territorio comunale quindi compreso chiaramente le scuole e i parchi giochi in scadenza per il 30 aprile avevamo già annunciato, come giustamente era la Team che poi dal 1 maggio il servizio l'avrebbe ripreso in mano il comune e avrebbe fatto il comune internamente la manutenzione del verde raccomandandoci però entro il 30 aprile di fare almeno le scuole e i parchi giochi perché proprio diciamo in questi giorni qua sono più utilizzati dai più piccoli soprattutto le scuole perché visto che poi a giugno chiudono la spiacevole sorpresa è stata quella poi a maggio nonostante i contini solleciti che nelle scuole e nei parchi giochi era stata fatta la dovuta manutenzione, quindi il taglio erba E allora lei che cosa ha fatto? Si è messo con le tagliaerbe a tagliare? Niente, ci siamo subito adoperati, abbiamo fatto un piccolo impegno di spese è chiamato per il momento due ditte insomma della zona del territorio del comune di Teramo pregando loro di darci la massima disponibilità facendo di tutto un elenco di scuole e parchi giochi e corre il più possibile per recuperare almeno il tempo perso che ripeto soprattutto nelle scuole chiudono a metà giugno quindi è proprio adesso il periodo ideale per i ragazzi per uscire fuori Questa decisione si è rivelata particolarmente positiva magari potreste fare a meno della Teramo? Sì, ma sul verde per il futuro andrà avanti così la manutenzione del verde, la cura e la gestione continueremo ad averla noi anche perché ho trovato pure da parte delle scuole quindi delle varie responsabili o delle mamme quando vado nei vari parchi giochi sono state particolarmente soddisfatti del tipo di lavoro che stiamo facendo e del fatto che il comune, in questo caso nella mia persona li segue personalmente e costantemente tutti i giorni Ma così c'è un risparmio? Sì, assolutamente, l'obiettivo era proprio questo di non toccare la qualità del servizio e semmai provare a alzarla ma soprattutto, visto le problematiche di bilancio che abbiamo, di risparmiare per darvi un dato così a naso noi dovremmo risparmiare sulla cura del verde almeno la metà di quello che spendevamo prima ripeto, senza intaccare la qualità chiaramente grazie 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 grazie